Sabaudia. La voce interiore attraverso RS 6 maggio 2012, Sabaudia, guide. Bentrovati fratelli nel vostro cerchio di luce, nella vostra dimensione usuale. Ogni volta che cercate il vostro messaggio, l'aggancio a quell'energia in grado di illuminarvi, vi vedete proiettati in situazioni simili a queste. Noi fratelli vi diciamo che non avete bisogno di proiettarvi e di immaginare situazioni così. Potete vivere la vostra esistenza e potete continuare a muovervi quotidianamente nella vostra dimensione usuale, concentrando il vostro pensiero sulla vostra stessa lucidità interiore. La vostra capacità di percezione è superiore al vostro pensiero. Allora la vostra vibrazione può arrivare a percepire il senso che nemmeno le nostre parole possono suggerirvi. Ogni vostro dubbio, ogni vostra domanda rimane in sospeso se i vostri pensieri le lasciano in sospeso. Tutto quello che non capite, che vi chiedete, è in realtà il riflesso di quello che la vostra mente suggerisce alla vostra anima di prendere in considerazione. E la vostra anima molto spesso risponde alle preghiere della vostra mente, ma è consapevole che la vostra mente giunge a conclusioni dettate non dall'armonia interiore, ma dalla vostra confusione abituale, dal caos in cui vivete. Vi immergete ogni giorno in una frequenza costante di ritmi e opinioni controverse, e tutto questo fa di voi degli individui che si sentono a volte persi e spaisati in un ambiente pur loro familiare. E in tutto quello che vivete vi ritrovate nelle cose che coincidono con i vostri pensieri, con le vostre ambizioni, ma la vostra anima molto spesso vi suggerisce che la vostra dimensione non è quella che la mente suggerisce essere un punto di arrivo, bensì è la strada stessa che state percorrendo.